Arriva l'ordinanza di Costabile Spinelli, sindaco di Castellabate, riguardanti attività come sale da ballo e discoteche. Nel periodo estivo Castellabate è notoriamente uno dei paesi cilentani con più affluenza di turisti e in questo periodo di emergenza Covid nel comune costiero ci sono stati rischi, come nel caso del cittadino romano, risultato positivo al virus e che aveva partecipato ad una cerimonia nel paese. Castellabate è Covid-free, anche se Spinelli ha deciso di continuare con un operato improntato alla precauzione, visti i provvedimenti di sospensione per ogni forma di intrattenimento musicale, per la fiera di Santa Maria a Mare di quest'oggi e del mercato di Piazza Mondelli del 15 agosto. Ora il provvedimento di sospensione arriva anche per le attività di sale da ballo e discoteche del territorio comunale. Il primo cittadino con i primi annunci di aperture di attività di questo genere si è attivato per sospenderle fino al giorno 7 settembre. Le violazioni di questa disposizione verranno punite con una sanzione amministrativa da 400 euro a 3.000 euro.